Buongiorno, buongiorno. Bello, buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Di dove siete? Io di Napoli, vero? Ah, ok, ok. Io sono di Brescia, abitavo a Napoli, ma vivo a Brescia. Allora, come cano? Sì, sì, sì. Voi siete la signora Rita, la signora Rita? Sì, sì, sì. Ma essendo che ho avuto un piccolo problema stanotte, diciamo, cioè, ieri sera, è una cosa brutta, una cosa brutta qui a Brescia, mi è morto il cane, diciamo così. Uè, Maro, come è morto la Rita? Me l'hanno avvelenato, me l'hanno avvelenato. Uè, Maro, nel nome di Gesù! Maro, qui ti vesti, famu! Ma poi è successo anche una cosa più brutta ancora. Cioè, io l'ho avuto nove anni il cane, per nove anni l'ho avuto. E quindi, quando lo sono andato a, diciamo, a cremare, cioè, mi hanno fatto una cosa brutta che mi hanno cremato solo il corpo e non la testa. E adesso mi trovo. Poi, vai, un altro cazzo, Rado. C'è solo il corpo e non la testa? La parola stava rotta, capru qua. Stanno pigliate la cazzo? No, ho cremato il cane. Però mi è stato cremato solo il corpo e non la testa, perché il ragazzo che stava là dentro, era un ragazzo che non lavorava bene. Cioè, non lavorava da tanto tempo, era un ragazzo nuovo. Quindi, cosa è successo? Cremando il cane, mi ha cremato solo il corpo e non la testa. Ma come? Si scherza? Eh, aspetta, come fa? È che ci ha tagliato la capo, signora l'avvocano? No, quando l'ha messo nel forno. L'ha messo nel forno. Voglio? Rita, giura che se ti stai spottendo, sta pariando. Oh, stai pariando, bello ragazzo. E non mettevi a fare uno scherzo, cioè, non mettevi a fare uno scherzo questo, no? È impossibile. Eh, ma volevo fare meno scherzo. Cioè, volevo fare meno scherzo. Ma come fanno a cremato il corpo e non la testa, bello ragazzo? Eh, e voi volevo fare, cioè, voi volete fare uno scherzo, questo di qui. A me mi fa fare uno scherzo. No, io volevo fare uno scherzo, ma non, cioè, mi bloccano una live. No, lei donna qualunque scherzo ma... Se t'iuscite per il Rasa, Rado. Eh, ma mica so' pazziando, cioè, è mica e non ste. Eh, mi parto to stai pazziando, né? T'ani gabbati solo del corpo. Ma... Eh, se t'iove, Rado, è. La baco, la baccia, è te,nda, diretta, ma... A macciare una macchise. La baci, Giulia va rolando a me,ố ui mama. Ma guanda mada, marci. T'uvi sei brutta, ma i miei c***i da café tu venga a mu. Grazie a tutti.